Piazza Ferrara, via Monpiani e via dei Panigarola, un trapezio dove vivono più popoli di quelli rappresentati dall'ONU. Maggioranza islamica, minoranza latina, italiani poveri, quelli che non c'è riforma che tenga. Ecco, vedi, questo è secondo me il pezzo che proprio ritrae Corvetto, proprio questa zona di Corvetto. Quando ero all'elementare c'era un solo ragazzo straniero, era un ragazzino cinese, sono diventata mamma, ho due bambini, uno dell'elementare e uno alle medie e la prima volta che ho portato il mio bambino all'elementare, il più grande, nella scuola di Polesine, qua dietro, alle mie spalle. Fuori dalla scuola, nell'attesa della campanella, c'era il mio bambino italiano con tutti i suoi amichetti, un bambino senegalese, un bambino peruviano, un altro bambino egiziano, un bambino marocchino. Non si capiva più chi era lo straniero in quella scuola, una piccola Londra, tutti insieme, tutto questo gruppo di piccola Londra era qui a dipingere questo murale per dire è bello questo quartiere.